GF VIP 7, la reazione di Donna Maria all'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Antonella Fiordelisi è stata l'eliminata della 43esima puntata del Grande Fratello VIP 7. Il suo fidanzato Edoardo Donna Maria, recentemente squalificato dal gioco, ha seguito il primo time di Canale 5 ed ha commentato la fuoriuscita della sua amata. Considerata una dei protagonisti della settima edizione delle reality condotto da Alfonso Signorini nonché papabile vincitrice. La sua eliminazione ha stupito tutti. Eppure, sono stati proprio i suoi fan a non votarla. Accogliendo l'appello della madre di Antonella. Pochi giorni fa, infatti, di fronte ad uno sfogo della figlia dopo aver visto sfumata la seconda possibilità di diventare finalista del programma, aveva esortato il pubblico a non votare la schermitrice. Così facendo, Antonella sarebbe uscita dal reality. Ritrovando un equilibrio psicofisico. Ecco le parole della madre. La concorrente, alla luce di quanto accaduto, ha lanciato una stoccata alla madre. Prima di lasciare la casa ha detto. Da casa, il volto di Forum, intento a guardare la puntata, ha così commentato. Adunca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Sì, poate zi dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă brac la costum, poate nu spun minciun, sunt liber să fiu stăpân. Pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Cupilăria s-a maturizat sever.